Quanto tempo sarà passato? Giorni? Settimane? Mesi? Devo fare qualcosa Devo rivedere i miei fan Ma come faccio? Anche se riesco Non so come spiegarlo Non so come spiegarlo Sono ormai mesi che sono qui Eh? Cosa è caduto? Luce? La luce del sole Chi mi ha dato questi pezzi? Boh, quel che importa È sapere chi è il mio salvatore Billy! Sei tu! Certo che sono io Purtroppo ho la mia vacanza Era da terminare Ma adesso non è il momento Di perdere tempo Hai un nemico da sconfiggere Anzi, un tuo vecchio nemico Vecchio nemico Di che stai parlando, Billy? Aspetta Non sarà Non sarà Non sarà, no, non può essere No, lui non esiste più Non è mai esistito Allora, ho costruito questa trapola Spero che ci caschi Vado a avvisare Billy E a nascondermi, ovviamente Andiamo, 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 andiamo Billy? Che è successo? Non sai che cosa mi è caduto Mi è esploso un creeper in faccia Sta tranquillo, Billy Ho preparato Ah, togli di te la telecamera Per favore Ho preparato una trapola Come è caduta a me Lui non è tanto intelligente Spero che ci caschi Bene, adesso che mi sono svuotato le tasche Possiamo andare Ho in mente di fare Una bella idea Una pressure plate Mi sembra familiare Controllo che ne sono In giro Beh Comunque La evito Perché io so che cosa accadrà Io ho preparato quella trappola Cosa Perché Qui manca Ho capito Qualcuno gli aver Devei avergli scavato una Qualcuno gli deve aver dato Ah, non lo so dire Ah, sì Ho trovato le parole Qualcuno gli deve avergli dato Dei blocchi di terra Devo poter illustrare tutta la zona Dove potrebbe essere quel malandrino Se è qui In giro Meglio posare la roba Potrebbe prendermela Adesso che ho posato la roba Posso indagare Di dove si trova quello No, non può essere Che sia liberato Controlliamo la zona Qui non sembra esserci traccia Bene Attenzione con la pressure plate Controlliamo in giro Allora Non deve essere Stato tanto lontano Andiamo a controllare il portale Se per caso è entrato di dentro Se è facilitato il compito Visto che È da un po' di giorni Che sto pensando Se liberarlo Tirarlo Tirarlo fuori da là E spingerlo nel portale Per farlo accadere Non sembra esserci niente Sempre il polterotto Il foro Quasi scordavo Comunque Prelusturiamo la zona Allora Deve essere qui da qualche parte Quel deficiente Lo troverò Prima o dopo Quel deficiente Non può andare in giro Nel mio mondo Oh porco di Dio Do sta là Oh 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 Billy hai sentito? C'è cascato Andiamo a vedere Lo sapevo Era troppo stupido Per non cascarci O almeno Ho sentito che lo evitava Ehi Gifagamer Come va? Tu Fammi uscire Neanche per sogno Addio Bene ragazzi Sono tornato Signori Ringraziamo Billy Grazie Billy Salve a tutti ragazzi Finalmente Siamo tornati Era ora Vediamo un po' se Quel malvagio Ha toccato il mio mondo Allora Per tutto Abbattiamo sto coso Appena mi prendo la roba Cosa è successo Al 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 progetto Della Della vina Cosa? Quel mo Mi ha rubato l'idea Oh Vabbè Dettagli Dettagli Geometry Dash Che non è tanto Che non lo porto E altro Tante serie Non mi ricordo manco Com'è il dentro Casa mia Un po' me lo ricordo Ma Tentare non muoce Finalmente Finalmente E sicuramente Che sicuramente Avrà toccato anche Clash Royale Clash of Clans Avrà toccato Tutto 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 Entra Ma che razza di casa È questa Beh Ripresa Da Ironblades Comunque Ferro Quel maledetto Ha continuato La mia serie Ma State tranquilli Adesso ci penso io Comunque Signori Sono tornato Mo Farò subito Una serie Che non ho portato Da tanto Vi farò un giro del mondo Per vedere Se ha fatto qualcosa Noi ci vediamo A un prossimo video Dopo tanto tempo Ciao Ciao